Andiamo a Salerno nel campus di Fisciano, torna il master post laurea della scuola di giornalismo, sentiamo. Rinnova l'offerta formativa alla scuola di giornalismo post laurea dell'università di Salerno che dopo una pausa di due anni riprende nel segno della specializzazione privilegiando l'indirizzo economico del corso di studio. Per i 20 allievi che saranno selezionati entro il mese di aprile c'è la possibilità di partecipare ad un laboratorio didattico presso la serie di un'importante banca che figura tra gli sponsor del corso. È vero che la professione può essere in crisi, i numeri non sono da questo senso a favore di questa scelta però dobbiamo dire in tutta sincerità che da tante richieste che vengono dal territorio di tanti giovani che vogliono studiare e investire sulla scuola di giornalismo il pensarla come quest'anno in chiave residenziale offrendo a un buon numero di studenti la residenza del nostro campus, il vitto, l'alloggio, in maniera tale da farle partecipare attivamente al nostro progetto, in maniera tale che questo laboratorio sia aperto 24 ore su 24 integrandosi con le nostre attività di comunicazione già presenti in Ateneo. A dirigere la scuola di giornalismo dell'università di Salerno sarà Gennaro San Giuliano. L'informazione deve essere affidata a delle persone che siano qualificate da un punto di vista professionale. è finita all'epoca di un certo giornalismo ottocentesco che nasceva sui marciapiedi anche se l'esperienza e il dato empirico restano molto importanti. Bisogna però corredare l'esperienza con delle grandi conoscenze.